è la cantina produttori di caldaro sita in caldaro sulla strada del vino siamo qua a rappresentarci e a farci vedere per quello che sono i nostri prodotti soprattutto per i vini bianchi è una cantina sociale che produce circa un milione e 800 mila bottiglie abbiamo 420 soci e 330 ettari di vitato abbiamo portato quella che rappresenta la nostra produzione diciamo di punta per cui qui abbiamo il diversa mina diversamente abbiamo portato il kerner vitigno autoctono della valle isarco dove abbiamo dei conferitori abbiamo portato il pino grigio e il pino nero questo per caratterizzare ancora di più l'offerta che facciamo alle persone che sono intervenute qui a questa manifestazione posso dirvi che sicuramente una manifestazione molto ben riuscita ecco tutto qua